Inizia con un classico di Aristofane, l'Isistrata, per proseguire con Shakespeare ed il suo sogno di una notte di mezza estate per arrivare al maestro russo Anton Chekhov con zio Vagna. In mezzo servo di scena di Ronald Harwood e le verità di Beckersfield di Stefan Sachs. Riprende il 6 febbraio la stagione teatrale del Teatro Alessandrino, due spettacoli nel mese di febbraio, poi due a marzo ed uno ad aprile. Cinque spettacoli insomma che possono diventare anche una bellissima idea regalo per questo Natale. Abbiamo sicuramente messo in piedi appunto questa importante stagione teatrale che peraltro di prosa, di alto livello, con nomi importanti, registi importanti proprio per riportare, ripresentare in città una produzione che da qualche anno andava a mancare e comunque andiamo a implementare tutto quello che viene offerto da altri complessi cittadini. Alla biglietteria del Teatro Alessandrino dalle 17 alle 19 è possibile acquistare i singoli biglietti a partire dal 25 dicembre mentre fino al 24 si possono acquistare gli abbonamenti. Si può eventualmente acquistarli anche su www.teatroalessandrino.it oppure su www.ticketone.it I biglietti si possono acquistare anche la sera stessa dello spettacolo alla biglietteria del teatro a partire dalle 17. Assessore sarà importante per una buona stagione teatrale l'aiuto anche che vi daranno molte associazioni della città ma proprio per sollecitare gli abbonamenti e i biglietti. Sì, diciamo che noi contiamo anche sull'aiuto delle associazioni ma proprio perché il livello è veramente importante, è veramente ampio, vogliamo veramente ampliare anche il range di pubblico per poter ripresentare, riproporre quello che anche da tanti anni purtroppo in questo modo mancava alla città. Grazie.